Gentili telespettatori, buona giornata. Come avevo sospettato anch'io Mario Draghi è stufo delle ridi nel governo e sarebbe pronto ad andarsene se saltano le riforme come è il caso del Catasto, la riforma del Catasto. Torna così a incendiare la politica italiana questa riforma. A due settimane dal fantomatico accordo tra Draghi e il centrodestra di governo, cioè Forza Italia e Lega, che aveva portato alla parziale modifica della riforma tracciata dal governo, sono le raccomandazioni della Commissione europea a suscistare la vehemente reazione della Lega. L'Italia deve attuare le riforme a partire da quelle previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza, e quindi fisco, Catasto, lavoro e concorrenza, chiede l'esecutivo di Bruxelles. In particolare sugli immobili aggiunge i valori catastali, che servono come base per il calcolo dell'imposta, sono in gran parte superati. Occorre allineare i valori catastali e i valori correnti di mercato. Quest'ultimo nodo, faticosamente battuto dal centrodestra, ottenendo una sorta di mediazione con l'esecutivo, e quindi immediata e immattinata la presa di posizione di Salvini, che dice che l'importante è che nessuno provi a reintrodurre dalla finestra le tasse sulla casa che abbiamo fatto uscire dalla porta. In realtà le tasse non sono uscite dalla porta o rientrano dalla finestra, c'è una legge che permette ai comuni di alzare l'Immu. Fino adesso non hanno potuto farlo perché manca la rivalutazione degli estimi catastali. Come fanno ad alzare l'Immu di un quartiere se non sanno i valori aggiornati? Con la riforma del catasto, con i valori aggiornati, i comuni potranno alzare l'Immu in un quartiere in tutta la città. Non lo farà il governo centrale, ma lo faranno i comuni. Comunque sia la tassa sulla seconda casa ci sarà. Pertanto vi dicevo e vi raccontavo in questi giorni quella che il centrodestra di governo ha fermato le tasse sulla casa è una bufala. Dicono che l'Europa vorrebbe, dice sempre Salvini, che l'Italia tassasse anche la prima casa. A Milano si dice si attacchi al tram, aggiunge, se qualcuno pensa di tassare la casa è la prima casa in Italia ha trovato nella Lega un avversario che non cambierà mai idea. Come vi dicevo, i comuni potranno farlo sulla seconda casa. Da Bruxelles arriva quindi la replica del commissario del PD, però che è in Europa come commissario europeo all'economia, Gentiloni. Dice «Nelle nostre raccomandazioni ci sono sei parole. Aggiornare i valori catastali ai valori attuali di mercato», dice l'ex premier italiano. «Penso che questo non rappresenti una richiesta di aumento di tasse, o dire inserire tasse sulla prima casa, ma una necessità per l'Italia di cui penso il governo italiano sia pienamente consapevole». Poi un altro funzionario dell'Unione europea precisa ai giornalisti che l'aggiornamento dei valori catastali allo studio del governo italiano e promosso dalla Commissione europea nelle raccomandazioni degli stati non è una condizione per l'erogazione dei fondi del Recovery Fund, perché il pagamento delle rate del Recovery è strettamente legato alle pietre miliari degli obiettivi. Pertanto l'Unione europea fa sapere che l'aggiornamento del catastro non vincola i soldi del PNRR. I soldi del PNRR sono legati agli obiettivi che tra virgolette l'Italia non sta neanche raggiungendo. Nel piano italiano dicono che il tema delle riforme fiscali era menzionato nel racconto del PNRR, ma non è stato incluso uno specifico impegno in termini di raggiungimento degli obiettivi. Quindi capite che i balneari, il catastro, non sono fondamentali per continuare a ricevere i soldi. Sono delle raccomandazioni dell'Europa non vincolanti, ma Draghi le vuole fare vincolanti. Sul tema interviene anche Giorgio Meloni, dice che nelle sue raccomandazioni all'Italia la Commissione europea conferma che la riforma del catastro, prevista dal governo Draghi nella delega fiscale, serve ad aumentare la pressione fiscale sugli immobili. Sostiene la Presidente dei Fratelli d'Italia. Sono inequivocabili le parole del Commissario dell'Unione europea all'economia. Gentiloni. Ma da Forza Italia dicono che è chiuso il nodo del catastro. L'accordo è stato raggiunto e non vi saranno cambiamenti, come lo stesso Berlusconi ha fatto notare parlando di battaglia vinta nel suo discorso alla Convention di Napoli. Tuttavia bisognerà attendere il risponso del Movimento 5 Stelle. PD e Italia Viva sulla proposta di accordo del centro-destra di governo una volta che la Commissione finanze di Montencitorio affronterà il tema catastro. Draghi negli ultimi giorni avrebbe manifestato le sue preoccupazioni al Presidente della Repubblica Mattarella. Non vorrebbe rovinare la sua reputazione in Europa con riforme anacquate o fallite e sarebbe uno dei motivi per cui avrebbe imposto la stretta sul DDL concorrenza. In caso di mancato accordo con la questione di fiducia è chiaro, se si vuole la palude è meglio cercare un altro Premier. Anche perché con la questione di fiducia che metterà Draghi sul DDL concorrenza, se il provvedimento non passa, per legge il governo è caduto, non è un'opzione andare a dare le dimissioni. Se si mette la questione di fiducia che fa sì che non ci sia nessuna discussione sul provvedimento, la contropartita è che se non passa automaticamente per legge il governo è caduto. Quindi se viene respinto il DDL concorrenza perché qualche partito si mette contro, vanno tutti a casa. Voi credete realmente che il governo vada a casa non raggiungendo la pensione al 22 di settembre? Quattro anni, sei mesi e un giorno? Pensione che gli verrà corrisposta a 65 anni ma loro dopo quattro anni, sei mesi e un giorno hanno diritto alla pensione. Veramente credete che i parlamentari voteranno contro se stessi e si licenzieranno dal Parlamento e senza neanche raggiungere la pensione? È molto difficile che se metta la fiducia Draghi il Parlamento dica no al DDL concorrenza. Avete mai visto politici che per una legge si tolgono da soli il loro stipendio? E la pensione? Non si è mai visto. E non accadrà, ovviamente. Qui ne va del loro stipendio e della loro capacità di pagare il mutuo perché ricordatevi che l'Italia è una repubblica fondata sul mutuo del parlamentare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Siamo poi anche su Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, notizie, fai da te. Poi questi video dopo qualche ora sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie a tutti e arrivederci a presto.